Maresciallo! Sì Capitano! Stasera passiamo una bella serata! Certamente Capitano, grazie dell'onore che mi date di uscire con voi! Andiamo al cinema, finalmente! A proposito, avete preso i biglietti? Sì, tutti e quattro Capitano! Quattro! Ma siamo soli e voi! Chi c'è zicca Capitano? Due per entrare e due per uscire!